Musica Amici di Rete55, una buona sera e buon anno da Bar Eccellenza e dunque campionato fermo fino al 23 di gennaio ma noi siamo sempre qui presenti ogni martedì alle 19.30 su Rete55 e iniziamo questo nuovo anno raccontando però questa stagione e partiamo da uno dei personaggi che ci hanno fatto visita anzi siamo andati noi da lui Stefano Bettinelli che è stato presente in quanto padrino alla fondazione dell'olona calcio Quando nasce una nuova scuola calcio è sempre una bella notizia è sempre una bella notizia sì perché diciamo che ormai i ragazzi stanno perdendo un po' il gusto del gioco, del divertimento e sono queste le realtà che devono in questo momento attirarli e coinvolgerli di nuovo a calcare i campetti e non i divani della Playstation Decisamente, fai vedere questa magliettina che ti è stata suonata Questa maglietta che sarà un onore indossare mi è stata donata dalla società e in modo particolare dall'amico Ambrogio non vedo l'ora di poterla indossare per venire anche qui a fare qualche corsetta intorno al campo e magari apprezzare il lavoro che stanno facendo gli allenatori con i bambini mi è già capitato di venire un paio di volte, di vederlo e devo dire che mi ha anche un po' emozionato vedere quello che stanno facendo Come sta andando adesso oltre i confini? Per quello che mi riguarda, per quello che mi riguarda molto bene sono contento, sono in una realtà a misura d'uomo ci sono grandi attrezzature c'è tutto per poter lavorare bene mi trattano benissimo spero di essere io all'altezza di poterli ripagare con i risultati umiltà lui è un modesto ma è un modesto concettualmente modesto perché a volte si associa il modesto come quello no lui è modesto perché è onesto mentalmente per cui lui è sempre moderato nei giudizi poi non vuol dire che sia un morbido perché è anche un uomo di carattere però è moderato sono uscito dalla macchina e l'ho sentito urlare io non so cosa stavate facendo prima che arrivassi però io già l'ho sentito urlare qui eravamo arrabbiati perché non arrivavi la vera rivelazione però di questo campionato di eccellenza è sicuramente la castanese tra i protagonisti c'è sicuramente Valerio Foglio uno che insomma è sceso in eccellenza dopo aver fatto la Serie B per tante stagioni e allora da questi sgabelli ci ha raccontato com'è stato un po' questo salto Valerio è tornato in eccellenza ma non è che ci è tornato perché prima era in prima categoria un secondo infatti perché diciamo che ha calcato per anni e anni dei palcoscenici importanti ricordarli tutti diventa anche un po' complicato però insomma da Reggio Calabria a Grosseto a Vicenza diciamo che si è divertito con un fior di allenatori tanto per rimanere nella mia categoria cito Mondonico perché è quello che credo sia da citare assolutamente che ricordo hai di lui? sono nel cuore di tutti quindi io lo ricordo volentieri perché è stato un po' tra virgolette l'unico allenatore che mi ha fatto fare veramente bene in Serie B nel senso che io ho fatto tre anni importanti in Serie B e li ho fatti nel momento che Mondonico era vicino a me quindi riusciva a trasmettermi qualcosa che magari tanti allenatori non sono riusciti a farlo che società era così? io ero all'Arbinoleffi quegli anni là e quindi sono stati tre anni importanti per la mia carriera insomma come è stato com'è questo salto dalla Serie B all'eccellenza è chiaro che stiamo parlando di due realtà completamente diverse ma ci si diverte in Serie B come in eccellenza? il calcio è sempre calcio ma io mi diverto sempre cioè nel senso se non mi divertirei non andrei neanche al campo quindi io sono andato in eccellenza perché sono andato a Legnano ecco se no non so se sarei sceso in eccellenza quindi sono tornato a Legnano nella mia squadra dove mi ha lanciato un po' nelle categorie un po' più alte quindi innamorato di questi colori sono tornato perché per Audi chissà ma riportarli nel professionismo non ci sono riuscito per poco perché poi sono arrivati in Serie D poi dopo eravamo secondi con la Pro Sesta hanno sospeso il campionato la Pro Sesta è stata in Serie C però sono stati per me quell'anno e mezzo importantissimi ecco per me è stata una vera favola tre virgolette tornare in eccellenza però con la società che è con la squadra tre virgolette nel mio cuore ecco Alta protagonista assoluta di questa stagione sicuramente la Sestesi agli ordini di Fiorenzo Roncari è stato per un anno particolare per il Bianco Blu con il passaggio da Brovelli a Morello che ancora deve compirsi in questo 2022 e allora ascoltiamo un po' proprio dal press Alberto Brovelli questo passaggio e l'avventura in questo campionato come sta cambiando questa Sestese con l'avvento di Mauro Morello cosa cambierà dal punto di vista societario insomma anche con il lavoro di Giorgio? ma guarda io sono sempre del parere questo non è una cosa che penso oggi che per fare una buona squadra e ottenere i risultati occorre oltre ai buoni giocatori i buoni allenatori ci mancherebbe occorre una struttura societaria che dia delle certezze dal punto di vista organizzativo diciamo pure anche di serietà di impegno eccetera oggi devo dire non è un giorno voi lo sapete ma devo dire che adesso sono da quel punto di vista soddisfattissimo perché grazie a Giorgio che io conosco da tempo ha già lavorato da noi adesso è già più di un anno un anno e mezzo un anno e mezzo che da noi ci siamo strutturati bene anche lì quindi devo dire io vado al campo a far danni nel senso che come piace a te ma in realtà poi tutta la parte organizzativa ma anche di strategia di filosofia la gestisce lui naturalmente lui ci conosciamo bene lui sa come vedo la mia strategia le mie filosofie quindi si sa muovere quando magari bisogna qualche consiglio io ci sono questo ci permette grazie a lui che è un po' il mio uomo di fiducia oltre ad essere direttore operativo della Sestese direttore generale c'è il suo figlio che si occupa di segreteria abbiamo Mario li dico perché non vorrei dimenticare nessuno Mario Rambus che è sempre in segreteria mio figlio che si occupa cassiere segretario quindi abbiamo tutto il nostro torse di medico qualcuno Giorgio Dimelo a parte poi l'uomo dei campi l'uomo che taglia l'uomo che lava l'uomo che pulisce ma devo dire c'è tutta una struttura posso dirlo dal punto di vista organizzativo ritorno ai tempi della vita regionale una decina di anni fa dove chiaramente le esigenze sono ancora più importanti dell'eccellenza anche se devo dire con l'avvento del covid anche la parte organizzativa è diventata di priorità di importanza perché Green Pass tutte queste novità che per noi sono novità nate da un anno e mezzo a questa parte ci hanno costretto diciamolo pure a pensare forse di più alla parte strutturale organizzativa della società che fare squadre abbiamo però parlato anche di arbitri in un momento non certo semplice per i fischietti varesini con Roberto Arcari Farinetti che ci ha raccontato come le tante partite rinviate soprattutto tra gli allievi è stata causata da una mancanza di arbitri i corsi però sono in corso per usare un gioco di parole e allora vediamo un po' se in questo 2022 si riuscirà a risolvere il problema è un momento un po' delicato per gli arbitri varesini ma immagino non solo in tutta Italia perché abbiamo visto tanti rinvii a livello provinciale soprattutto sui campi degli allievi perché mancano i fischietti sì esattamente siamo un po' sotto numero sotto organico a livello nazionale sostanzialmente poi in alcune zone la situazione è un pochettino più evidente è un pochettino più drammatica diciamo così in altri posti in altre località invece è molto più tranquilla ecco c'è meno problema di copertura di gare qui da noi nello specifico abbiamo un organico un po' sottodimensionato di tanto di un 30% dove questo praticamente deve essere gestito proprio a livello numerico di gare perché non avendo copertura con gli arbitri diventa logicamente un dover cercare di rimandare rimandare dove in settimana come sta succedendo sostanzialmente quindi quello che sono i turni infrasettimanali sono sostanzialmente gare del weekend che sono posticipate durante la settimana gli stessi arbitri che fanno le famose doppiette quindi sabato e domenica come copertura gare lo fanno poi anche durante la settimana questo è un po' il trend che dobbiamo utilizzare in questo momento è pur vero che abbiamo i corsi arbitri adesso in svolgimento a partire dal prossimo mese di dicembre le varie sezioni faranno gli esami quindi diciamo che arruoleremo una nuova forza che possa andare a implementare questo numero questo gap che si è creato insomma tra dismissioni e purtroppo covid ha creato un po' questo problema tendenzialmente dovrebbe andare a risolversi la situazione diciamo col girone di ritorno abbiamo fatto i conti in tasca il campionato alla fine del girone d'andata l'abbiamo fatto con Mariella Lamonica collega di Varese Sport chi vincerà questo campionato? senti chi ti ha impressionato di più? ma di quelle che ho visto o forse anche insomma di quelle che ho visto e che sto tenendo d'occhio ecco classifica alla mano mi piace molto la Castanese dico la verità non perché prima credo che abbia un insomma partire dalla dirigenza passando per mister Garavaglia che penso sia un ottimo mister una rosa costruita con molta intelligenza secondo me non è che la vedo favorita però sai quel qualcosa che tu dici? quella follia c'è un po' di follia quella sana follia che dici ma non è che fanno il colpaccio poi c'è quel nero verde che ricorda un po' la castellanzese che ritorna cast cast a volte tornano come si suol dire è una squadra che riparte io ho visto fare contro la Varesina di quelle ripartenze incredibili cioè una squadra veloce velocissima che poi contro la Varesina ha pagato perché la Varesina in quell'occasione è stata capace di gestire palla e far sfuriare un po' questa squadra però quando riparte non ce n'è per nessuno no davvero davvero come dici tu questa sana follia che può essere può essere croce delizia però a volte se riesci a tirarla dalla tua è un'arma di quelle davvero bisogna saperlo fare molto bene portarla avanti perché poi è ancora lunghissima lunghissima anche perché non siamo abituati siamo passati a un campionato Superlega a un campionato grande non so se è il momento di parlare di Superlega in questi giorni qui non parliamo di Superlega dopo quelle urne se vuoi parliamo di sorteggio andiamo a sorteggiare noi la prossima volta e dunque siamo in chiusura ripartiremo con gli ospiti naturalmente settimana prossima il martedì alle 19.30 su Rete55 speriamo davvero che si possa ripartire senza troppi problemi il 23 gennaio un film già visto purtroppo fatto di sospensioni e recuperi ma davvero incrociamo le dita perché tutto prosegue per il meglio l'appuntamento lo ripeto il martedì alle 19.30 su Rete55 e come sempre buon anno e settimana prossima ciao 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 ciao